Grifo-Brescia, sfida tra opposti, scrive il Corriere dell'Umbria, Perugia senza vittori interne, Rondinelle con il miglior rendimento fuori casa. Sabato il big match del Curi contro i Lombardi, autori di Ben Treblitz, arbitra l'internazionale Guida. Mentre il derby con la Ternana, domenica 19 dicembre alle 16.15, la prima giornata di ritorno, è in programma il 29 e precederà la sosta invernale del campionato, scrive proprio il Corriere. Parlando proprio di Ternana, Fere con Luca Relli tutti in campo ma Falletti è intoccabile. Il tecnico rosso-verde ha utilizzato l'intera rosa ad eccezione dei portieri di riserve degli infortunati. L'uruguaiano qui in foto con 494 minuti non ha saltato una gara ma sabato con il Pordenone potrebbero esserci delle novità. Intanto calcio da tavoli, il Ternano Mattiangeli si piazza al terzo posto alla diciannovesima edizione del trofeo Guerin-Subuteo. Mentre per la scherma a GP giovanissimi, Ludovica Costantini trionfa nella spada a Riccione. Veniamo al volley, Sir, attenzione a Roch Mosic, il giovane talento sloveno in estate a un passo da Perugia e il punto di forza di Verona. A Trento nell'esordio in Superlega ha messo giù 18 palloni. Gerbic e Soleil gli ex della sfida di domenica tra Verona e Perugia in terra scaligera. Subito un premio per Leone, riconoscimento come miglior schiacciatore della stagione 2020-2021. Intanto la school volley ancora senza palasporti, il ritorno a San Marco può essere rinviato. B1 femminile, la 3M sconfitta da Forlì, il coach Buonavita dobbiamo migliorare, ha dichiarato. Torniamo al calcio, andiamo al Gubbio calcio, il Gubbio contro l'ex Guidi, qui in foto proprio il tecnico. Oggi al Teramo, ai tempi del Gubbio, è rimasto solo poche settimane sulla panchina rosso-blu. Le natore del Teramo ha guidato il rosso-blu due stagioni fa per nove partite, prima dell'esonero, ritrovo una squadra forte. La metto subito dopo le quattro big, ha detto Federico Guidi, che prima del Gubbio veniva dalla primavera della Fiorentina. Sabato la sfida del Bonolis, noi abbiamo cambiato 15 giocatori, ma gli ultimi risultati ci danno fiducia. Sette punti nell'ultime tre gare per Guidi e il suo Teramo, intanto è rientrato anche Fantacci in casa a Gubbio, l'attaccante esterno da tempo ai box. C'è Reddi, Trottolino Ruggeri e il gol di testa, Tiferno, una grande emozione, lo stacco da terra, ricorda CR7, scrive proprio il Corriere qui in foto. Il 2003 Ruggeri, che è un prodotto del settore giovanile del Gubbio, con cui è anche esordito in prima squadra lo scorso anno. Calcio femminile, via la Coppa Italia, Roscini, cresciamo, domenica le prime partite, parla la responsabile regionale. Veniamo quindi anche alla Serie D, il Falco ha cambiato volto dopo Bossa, Bianche e Sbarzella, ma arriva in prova il San Marinese Rossi, classe 87. Bengala ancora in stand-by, non sono escluse altre partenze nelle prossime ore. Ieri dunque si è unito al gruppo anche un attaccante olandese, in Coppa Italia avanza il Gavorrano di Mister Bonura. Non si sblocca la situazione intanto per tesserare il bomber brasiliano da Selva, ancora in stand-by. Casagrande Contardi continua a stupire nel motociclismo, esordi in premoto 3 divertentissimo. Il dodicenne di Palazzo sarà protagonista il prossimo anno. Nel Elf Civ, automobilismo, Nascar, Valeri sul podio a Zolder, ora il colpo decisivo a Vallelunga. Il pilota Umbro puntiamo al terzo posto nella classifica generale, ha detto proprio il pilota nativo di Gualdo Cattaneo. Quindi ampio focus sull'eccellenza che ieri ha visto giocarsi il turno infrasettimanale. Orvietana, esame superato. La Narnese interrompe la striscia della capolista, ma per i rupestri il punto è oro. Complimenti anche a loro, applaude il tecnico dell'Orvietana Ciccone, Alessandro Gaucci, ospite in tribuna. Veniva da otto vittorie di fila l'Orvietana che ieri ha impattato 1-1 contro la Narnese. Intanto il tramontano show alla Tairus, bella doppietta che stende il Gualdo Casagastalda. Traversa di Lorusso, finisce 2-1 per i Ternani dunque. Il Sanzisto intanto parla russo, 1-2 dell'attaccante di Giacchetti che ribalta il Bastia al degli esposti. Contestato l'arbitro Capoccia che assegna un rigore dubbio ai bianco-azzurri. Altra battuta d'arresto per il Bastia di Minister Caporali, qui in foto. Ma la prestazione c'è stata, espulso Andreani, il Sanzisto dunque sbanca Bastia. 1-1 invece tra Ducato, Lama e Spoleto. Tra Ducato, Spoleto e Lama ovviamente. Di Nicolà, Prevolpi chiude, Ducato, Spoleto, Lama e solo pari. Miccio salvi il Castellini dell'Agola, Sisi Subasio, si illude un tempo. Finisce 0-0 tra i due contendenti. Ancora Ellera, quanta sfortuna, e Lapazio alza un muro. Due legni per i corcianesi, con il Branche solo pareggio. Partita a vara di emozioni, Polidori e Ardone vicino al Golma. Finisce 0-0 tra Ellera e Branca con il portiere qui in foto della formazione Gubina, Lapazio. Grande protagonista, migliore in campo con 7,5. Questa è la sua pagela del corriere. 3-0 invece del Sansepolcro sul Castel del Piano, con doppietta di Brizzi e gol dell'ex Gubbio Burzigotti. Ancora Ferrante rilancia il Massamartana e vince la scommessa con Fabiani. Finisce 2-0 per Massamartana sul ponte Valleceppi. Quindi la promozione, troppo Terni Est per la MC 98. Finisce 4-1 per i padroni di casa con il grande Tozzi Borsoi, classe 79, che sta vivendo una seconda giovinezza alla Terni Est. Ieri in gol per l'ex attaccante del Perugia. Quindi 1-1 tra Piccione e San Marco e Viventina. 2-0 della Merina sul Clitunno. Ancora, per quanto riguarda l'Ippica, Umbria Super in Coppa Italia. 10 medaglie d'oro, 7 d'argento e altrettante di bronzo per i giovanissimi. L'evento è andato in scena al centro. Le Lame, Ors Sporting Club di Montefaio, coltre 300 partecipanti e 46 club provenienti da 11 regioni per la finale nazionale. MotoGP con l'area d'oro del Cone a Bastianini si brinda al motoclub di Spoleto. Ecotrail nel Podismo, festa per 4 a Pietralunga. Gemma e Lorena Piastri chiudono davanti a tutti dopo 21 chilometri. Mentre per la nuoto, Under 14-16 alla Piscina Pellini per l'Eurociocco, le città di Perugia. Veniamo anche al messaggero Grifo. La CVP riallarga il Curi. La commissione provinciale di vigilanza porta la capienza al 75% della metà e vale anche per la curva nord. Sono 7.581 ore i posti disponibili. Il Comune invia in prefettura il cronoprogramma dei lavori verso il Brescia e Alvini studia alcune sorprese. Academy decennale con 130 affiliate, felici di averci creduto, dichiara proprio il responsabile dell'Academy del Perugia, Football Academy Lucarini. E poi Lodovica Costantini porta fuori nello scudetto dello scherma giovanile. Tiro dinamico per Gatti Trionfo Doppio, campione d'Italia nella sua Passignano. Ancora il bomber di record è tornato. La situazione italiana calciatori lo ha inserito tra i migliori dei giocatori di Serie B del mese di settembre. Parliamo di Anthony Partipilo che dalla rottura della spalla a recupero lampo ha detto il peggio è passato ma ancora non sono al top. l'attaccante grande protagonista della promozione lo scorso anno dalla C alla B con la Ternana. E poi l'evento ad Amele. I 60 anni di Cozzella da Mogolle diventano la festa dello sport. Il party sostenuto ad Amele al centro di Rapetti tra gli invitati, il campione del mondo di scherma Foconi. Gli auguri di mister Mimmo Toscano, le cene a casa sua di giovedì furono l'ingrediente in più per la vittoria, così viene appunto celebrato Vittorio Cozzella. Narnese, un freno all'Orvietana, anche qui l'eccellenza, l'1-1 del big match. Il vento è influito, ha detto il tecnico dell'Orvietana Ciccone. E poi Tramontano trascina Olimpietà, il russo di Nicola lancia la Ducato, ma Volpi salva il lama in alcuni dei risultati. E poi il masse terzo, la Nestor, fa tutto da sola, 0-0 ricordiamo, tra Ellera e Branca. Chiudiamo dunque con anche il Quest, inserto della nazione, Grifo, serve un super, ci si zola pure al Curi, 4 clean sheet, ma tutti in trasferta per il portiere in questo avvio. E il Brescia ha il miglior attacco della Serie B, puntualizza proprio il Corriere. Ancora Ternana caccia al modulo, oggi Lucarelli in conferenza stampa, ha ampie possibilità di scelta per il tecnico, partita intanto rinviata per il team femminile. E poi Serie C, il ritorno dei tifosi e di Fantacci nella prima amichevole a porte aperte per il Gubbio, che sabato, come detto, è atteso a Teramo. Fantacci, che ha segnato anche nell'amichevole di ieri il test a porta aperte al Barbetti. E poi a uno femminile della Bartoccina ha lanciato la campagna abbonamenti, possibile acquistare biglietti per le partite casalinghe. Quindi il punto sull'eccellenza, Orvietale e Narnese, scusate, dividono la apposta, segno prima Rocchi e poi Bracaletti. Il Sanzisto e Spugna, Bastia, 0-0 tra Ellera e Branca, con il portiere Eugubino Lapazio, grande protagonista. 1-1 Ducato Spoleto e Lama, 1-1 anche Assisi Subasio e Castiglione del Lago. Quindi ancora il 2-1 dell'Olimpia Italia sul Gualdo Casacastal, del 2-0 del Massamartana su Ponte Valle Ceppi. Siamo davvero in chiusura. Possiamo vedere il meteo per quanto riguarda ovviamente le prossime ore. Sole, ma temperature non molto al di sopra dei 10 gradi. Questa è la tendenza per la giornata odierna e anche per quella di domani. Oggi il sole splenderà fin dalle prime ore della mattina, con le temperature che soltanto nell'ora più calda della giornata raggiungeranno i 14 gradi. E stessa situazione per la giornata di domani. Dunque bel tempo, ma temperature piuttosto fredde in Umbria. Siamo davvero in chiusura. Vi ricordo soltanto questa sera, ovviamente, il nostro Tg Sera, 19.30 e poi il replica alle 20.20, mentre Tg Mattina torna chiaramente domani, sempre dalle 7.30 su TRG. Grazie a tutti e buona giornata.